Situazione complicata quella delle aree di risulta di Pescara, oggi sono anche dei cittadini, degli esercenti della zona. Lei parla di una vera e propria emergenza, è così? Sì, qui è un far west, una terra di nessuno, soprattutto la sera quando scende la notte c'è un vero rischio per l'incolumità dei cittadini e residenti. Ci sono spacciatori di droga che dalla mattina alla sera spacciano droga, maggiormente stranieri, senegalesi e nigeriani, esercitano violenza nei confronti dei cittadini. Ci sono stati casi di stupro, persone col macete che rincorrevano altre persone, aggressioni, violenze. Ogni giorno spacciano droga e seguono anche, a partire dai ragazzini dei 15 anni fino a finire sui persone 60 anni, droghe leggere ma anche droghe pesanti. È diventato veramente una situazione a rischio, dove a nostro avviso va decretata immediatamente uno stato di emergenza. Quindi il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza deve riunirsi, questa è la nostra proposta, decretare lo stato di emergenza, fare una richiesta al Ministro dell'Interno, perché è l'unico che può autorizzare l'operazione strade sicure, è autorizzare l'operazione strade sicure, che significa pattuglie miste, esercito e forze dell'ordine che possano presenziare fisse acqua 24 in questa zona con ronde continue, pattugliamenti continui. Altrimenti il problema non si risolve non solo qui, ma è tutto il quadrilatero. Poi ci sono diversi furti con spaccate ai negozi in centro, questi balordi criminali pregiudicati si immettono all'interno dei negozi esercitando anche violenza. Qui abbiamo una rappresentanza di diversi commercianti esasperati che non ce la fanno più. Quindi o prendiamo in mano il problema o non lo prendiamo. Io sono contro ogni operazione ad orologeria, l'ho sempre detto, quindi non mi piace che magari perché sanno che oggi ci siamo noi qualcuno viene, accente il riflettore, si fanno vedere, fanno i passaggi, ci devono stare domani, dopo domani e gli altri giorni fino alla risoluzione di questa emergenza. A tutela soprattutto dei cittadini. Proprio ieri il questore di Pescara ha detto però che non c'è un'emergenza criminalità in città, non c'è bisogno dell'esercito. In città i reati, lo dicono i numeri, a Pescara sono in calo. Beh, io sto ogni giorno in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, in mezzo al popolo e vivo queste cose. Io stesso ho vissuto operazioni qui di polizia, arresti, addirittura hanno arrestato due o tre persone che avevano taglierini sotto la lingua, pronti a taglieggiare e ad aggredire. La situazione è tragica, io non condivido quello che è stato detto perché ritengo che il problema esista, però ci vuole un coraggio, un'azione di coraggio. Per riconoscere l'emergenza devi avere coraggio ad ammettere che qualcosa non è andato bene. Lo so, è difficile ammettere, ma quando serve bisogna ammettere per risolvere i problemi.